Ehi ragazzi, ciao a tutti e lì che è abbandonati qua su Farmix Simulator 17 Ragazzi, oggi siamo qui in compagnia di Alex Farmer Ciao ragazzi Allora, guardate, stiamo grigliando E tra un po' si mangia, tra un po' Però prima dovevo andare a lavorare, ahimè Eh, ci tocca, porca miseria Però lascia il carbone lì acceso, lascia tutto acceso Intanto comunque qualche incivile ha buttato per terra il cestino della spazzatura Qualche incivile Inci Qualche incivile tipo Alex Perché è stato lui Sono stato io ragazzi Allora, raga, oggi ci occupiamo un pochettino delle api Facciamo un po' di latte e miele Quindi vediamo un po' Beh, vieni qua, va Guardate che c'è stato un mucchio di miele Che va portato nel Nella fabbrica Dove stai io? Alex sta sistemando Oh, caspita Dove mi mandi? Mi ha riportato indietro Ok Mi senti? Mi sa che c'è un problema di ricezione Mi sento lagare parecchio Eh, mi sa che Sì, abbiamo problemi Houston, Houston Houston abbiamo un problema Con C'è un problema di connessione Abbiamo un problema raga Un problema di connessione Ok raga Ho avuto un piccolo problema di connessione generale Mi è caduta tutta la connessione Eh, cose che capitano Succede, dai Allora raga Stavo a dire Ad Alex Che mo' si lavora Lui era già contento del fatto Che non mi andava più la connessione Così dice Oggi non facciamo niente Praticamente dovremmo portare Sti pacchettini Così ci facciamo il latte e il miele Intanto ovviamente lo butto per terra Questo miele Così lo diciamo Rendiamo ancora più Più fluido Ah di là lo devo portare Eh si è inutile che lo dai al falegname Quello solo mangia il miele Ah si vede infatti che non l'ho mai usata io sta mod Ehm beh E' la prima volta Ok vado più all'altro pacco di miele Vai vai Qua ne abbiamo 90 E la gallina canta Oh caspita volo Ah ora C'ho le api che mi hanno investito Mi stavano sbranando Che stai a fare con il pacco? Stai attento Ah non ti preoccupare Sono immune A quelle api si immune Ehm Ma quello mi sa Che non lo possiamo spostare Ehm Questo porca vacca Quante ce n'è qua di Oggetto troppo pesante Ehm Non è neanche pieno piena Dio la verità Forse che può andare ancora oltre Non lo so Se no è strano Vabbè se no Super muscoli La qual era Infatti si Alt L Ehm Alt L Modalità muscoli Ragà E così Tata Negga Guarda quante ce ne dia Ehm Girasoli Grande Richiesta per girasoli E dai un'occhiata Vedi se ce ne abbiamo da vendere Vado subito Nick Così magari Già che ci siamo Fiamo due soldi Che siamo poveri Capito Ehm Allora ne abbiamo 56.000 Buono Facciamo così Ehm Io credo che qua Manca il latte O il miele Ehm Vabbè il miele c'è Manca il latte Vai a prendere il latte Dovresti prendere la botte E vai Dalle mucche Ehm E poi ti dico io Dov'è il punto di carico Per Prendo questa di botte Nick Penso che dovrebbe andare bene Quella Teoricamente lo fa Allora Vediamo se trovo io Intanto ragazzi Un camion con casson Oh allora Nick L'hai visto Il trailer Di questo Farming 19 Eh si raga L'ho visto Me l'avete anche Chiesto Se l'ho visto E si ovvio raga Che l'ho visto Il trailer Di Farming 19 Però comunque Penso che È Troppo Come dire Ehm Mi sembra quasi Un po' Troppo reale Cioè Questa cosa qui L'ho vista anche Col trailer Di Farming 17 Anche il trailer Di Farming 17 Era parecchio Incredibile Però poi il gioco Non è In quel modo lì Quindi ho visto Il trailer È bello Però Cioè Se ci scrivevano sotto Che quello che sto a vedere È quello che c'è in gioco Allora dico Mazza Però non l'hanno scritto Quindi Eh no Quindi probabilmente È un trailer Un po' troppo pompato Un po' esagerato Eh Io vorrei effettivamente Vedere magari Un giorno o l'altro Ma mi sa che non lo faranno mai Cioè Magari O una demo O magari Che lo fanno loro Un video sul gioco Magari Lo fanno vedere loro Però non lo so Però comunque Bello è bello Molto bello Però Eh Non lo so Non lo so se realmente Poi il gioco è in quel modo Io ne dubito Eh Difatti ad esempio Anche Car Mechanic Simulator Il trailer O l'intro Comunque È una cosa pazzesca Ma poi tutto di quello Che si vede là Non c'è Quindi comunque Così a Insomma No ma infatti Lo scopo di questi trailer Cg È quello comunque Di Dimostrare all'utente Cosa ci sarà Ma Nel gioco Però non è La grafica reale Ecco Questo Questo è da specificare Perché molti confondono Il trailer cg Con la grafica reale Del gioco No Ragazzi Non è Non è così Io spererei Quasi quasi che abbiamo torto Devo dire Lo so Tutti Lo speriamo Però Come hai detto Bene Spero tanto Che così bello L'hanno mostrato Ma ho dei seri dubbi Ah forse li devo cariare Ah di quali devo caricare È giusto Girasol Girasoli Eccoli Allora Resto caricando il latte Ah l'hai trovato il punto? Sì Ho fatto un paio di giri Però poi l'ho trovato È lì dove c'è la serra Lì dove c'è la serra Sì 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 Eh l'ho messo lì È un punto Non troppo complicato Trovato Trovato A posto Mo vado a vendere Sto Sti girosoli qua Ah devo andare Da Gomez A me Gomez Mi ricordo Un vecchissimo gioco Che giocavo tanti 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 anni fa Quando 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 Beh insomma 15 anni fa Più o meno Un bel po' di tempo fa dai Il gioco si chiama Gothic Non lo so se Già sentito Già sentito Qualcosa Gothic È un po' come È come Come The Elder Scroll Però ancora Un po' più vecchiotto Cioè di quel genere Va GDR E c'era un cattivo Che si chiamava Gomez E io da lì Mi ricordo sto nome Gomez 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 L'unica volta Che La prima volta Che ho sentito sto nome Gomez Ah lo stavo a dire C'è un trattore in strada Lì che è incredibile Chissà chi è C'è un trattore Con un'ape dietro C'è un trattore in strada Lì dico Caspita Mo ci hanno messo Anche i trattori Che vanno in giro Troppo bene E invece no C'ho le macchine Che laggano Mannaggia a loro Oh chissà che se nel traffico Nel 19 Metteremo anche i trattori Ma magari faranno Un traffico più bello Di quello Eh dai E questo è proprio banale Come traffico Questo è Che addirittura fosse che Anche il 13 Ce l'aveva pure meglio Eh il 13 Purtroppo non l'ho giocato Ah io si E' stato il mio primo farming Il mio è stato il 2011 Come il primo farming Ah quindi tu hai saltato il 13 Si ho saltato il 13 E il 13 dicono che sia stato Il più bello in assoluto Bah mo non mi ricordo Ti devo dir la verità Allora Nick Io ho questo latte Dove lo devo scaricare? Là dove abbiamo portato il miele? Si si Perfetto Ah mo vengo Così lo facciamo vedere Lo facciamo vedere C'ho le ruote sollevate Eh caspita Ok bene Allora vendiamo To Gomez Arrivano i soldi Chissà quanto guadagno Perché nel multi Non lo dice mai Quanto si guadagna Eh vediamo un attimo Entrata da raccolto Da qualcosa Vediamo Ma io penso in 100.000 li avrò fatti Anche di più Eh li pagava due qualcosa Eh io ne ho venduti 56 Beh scusa 56 Mi hai detto che sei andato a venderli da Gomez Eh perché 56 per 2 fa 112 no? Più o meno Eh si Eh quindi è impossibile Che ho fatto 200.000 con quelli Eh 2387 Lo vendeva Eh di fatti Ah no Gomez 2633 Scusami Ma vabbè Ma sempre Mi sa che è difficile Che ho fatto 200.000 225 Con questo Vabbè vabbè Comunque Vabbè Qualcosa l'abbiamo messo in saccoce Ma si Stiamo a perdere un mucchio di tempo A fare sta discussione Comunque Il fatto è che Mo ci abbiamo 2.354.000 E qualche spicciolo A posto Allora Allora ecco qua Che c'è Alex col miele No Mi pare che è più dietro Oppure Ok Sì è più dietro Perché è lì davanti È il punto di carico L'ho Arnold Milk Eccolo qua Eh scaccia il Ecco l'effetto Vedi com'è bello Bello il tubo C'è proprio il tubo È proprio da dietro Anzi collega proprio qui dietro Forte Bello 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 E quindi stiamo a mettere il latte Nel Nella fabbrica Diciamo così Ehm Mi sa che è tempo fa Un altro viaggio Perché abbiamo Ah no Mi sa che No forse sto a dire Una cavolata io No 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 Vabbè non serve Molto miele Effettivamente Abbiamo 7.300 di latte E 650 litri Di miele Però il miele Dice che già È il 21% Mentre il latte È al 12% Quindi forse forse Che conviene fare un altro carico Di Eh di latte ci vuole Eh 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 Sì Un altro carico di latte Ok Io intanto do un'occhiata Alla situazione Mucche Cibo energetico 19 Ok Mi vado a sistemare Eh tanto io pure Devo andare dalle Dalle mucche Un'altra volta Ok Bene È già tutto pronto? Sì sì No beh sì C'è il camion Anzi a proposito Ecco vedi che fanno Mo Mo che ci sto a pensare Dobbiamo Dobbiamo riempire il macchinario Qua il mixer Così fa altro cibo energetico Perché Eh sì 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 Allora L'insilato Ce n'è in abbondanza Manca la paglia Manca paglia Ed erba Ok E risolviamo così In piccola parte Il problema E poi dovremmo fare un po' di erba Ma Vabbè L'erba è una cavolata Da fare Vabbè Mi metto io lì Due secondi E ci vuole a fall'erba E la faccio Non ci vuole niente Ci mettiamo tutte e due Sul terreno Lì dalle pecore Sì sì E in un attimo Facciamo 30-40 mila Di erba E via Non è che Non è un problema Insomma Eccoci qua Tu sei già ripartito No? Sì praticamente Sono arrivato In farm A posto Io invece Scarico Ops Scusi Io scarico Eccola là E la paglia Tutta 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 Tanto c'ho le balle Per la lettiera Sì Vanno bene quelle A posto Ok Sono pronto per fare L'altro scarico Vai 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 Scarica pure Scarica Ok Allora Sto trattore Magari Per ora Lo parcheggio qua Bene Allora Ora che hai finito Di scaricare Ehm Preparati Preparati Dalle pecore Che mo Vengo col camion E famo erba Subitissimo Agli ordini Capo Intanto sto scaricando Qua Il cibo energetico Così se stanno Un po' zitte Per un po' di tempo A posto Parti pure Sì sì Vai 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 Che velocità fai te Eh Faccio intorno I 14 km orari Ok Allora metto Metto per ora 15 Se poi ti supero Metto 14 Se poi ti supero metto 14 Hai visto eh Hai visto Hai visto T'ho sfiorato Che le grandi manovre Eh Ormai sono Ormai siamo Siamo Pro collaudati Nick Sì no vabbè Io con la tastiera E tu con il gamepad Lì Eh per te è più difficile Però Hai fatto una gran manovre No lo dici te che è difficile Io guido sempre Con la tastiera Anche su GTA Faccio gli inseguimenti Con la tastiera Eh Io con la tastiera Sono negato Ti dico che quasi quasi Gioco meglio con la tastiera Che con il gamepad Anche a guida Anche Sì In tanti Intanti giocano meglio Con la tastiera Che con Con il gioco Tu pensai che su GTA Io Avevo collegato il volante E giocavo su GTA Col volante E tenevo una mano sul volante E una mano sul mouse Per sparare Mentre guidavo Mentre che guidavo Eh Era divertente Era divertente Perché cavolo Guidavi e sparavi Ma io GTA L'ho avuto Sulla Sulla Xbox Sul PC Non l'ho mai Non l'ho mai acquistato Sì L'ultimo Ah beh Sul PC L'ho preso Per le mod Che è bello È un gioco Che d'altronde Pensa Farming Senza mod Non era farming Come lo conosciamo noi Anzi Forse Era già Accantonato Eh Direi proprio di sì Ti do ragione Su questo Come tanti Fanno un gran lavoro I modder Ma come in tutti i giochi Eh Se non fosse per i modder Non ci vogliono i modder E meno male Che c'è ancora qualcuno appassionato Che si dedica a farle Che cosa Le mod? Sì Eh la voglia E come Eh ma come fanno Con quello in mezzo alle scatole Facciamo una manovra Forse sai cosa? Forse che Comunque Cosa ce la fa Esatto Guarda come ci passa di sopra Proviamo Oh il povero trattore Gli hai mollato un po' di erba Nel Nel coso lì Nella pala Dai Eh l'ho visto che hai appuntato lì Allora giriamo qua Gira gira che mo qua Ok Mi sa che con quest'altro giro Ce la famo Cioè Quanto sei? Eh sono già a 22.000 Quindi con un altro giro Arriviamo a 44.000 E Anche perché sono già Sto già al 50% Quindi Meglio di così Bene Mi stai schiacciando tutta l'erba Mi stai schiacciando Non ti preoccupare Così mangiano Erba Al sapore di pneumatico Dovrei stare Dici forse dall'altra parte Eh sì Eh vabbè la prossima volta Andiamo 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 Che ci siamo Su 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 Oh poi bisogna trasferirle Tutte queste vacche Se andiamo su una mappa nuova Eh sì Tocca a fare un sacco di viaggi qua Eh appunto Un botto di viaggi Un botto Ah perché raga praticamente Sto a riflettere su di una mappetta nuova Ma vediamo Stiamo cercando una mappetta nuova Vediamo poi magari qui là Eh ovviamente Prima di farming 19 Dopo appena Di farming 19 Il 17 Più Ciao Ciao ovviamente Come col 15 Lo salutiamo Eh sì Il 15 Da quando è uscito il 17 Che l'ha più aperto E poi lì ragazzi Ci sbizzarriamo Speriamo Ah secondo me sì Dai Ci sono tutti i presupposti Per fare Speriamo Speriamo Ci saranno molte attrezzature Per la lavorazione del cotone Vabbè comunque chiedo scusa Ah sì no Vabbè ma per dire Dico se è per il cotone È un po' come Come quello che hanno fatto anche qua Che poi alla fine qui Hanno messo anche 4 cosette nuove No Come colture Beh hanno aggiunto i maiali Come animali Perché non c'erano i maiali nell'ultimo No non c'erano Sul 15 Mi vede Pensate manco me lo ricordavo sta cosa No non c'erano C'erano mappe sì Che avevano i maiali Vero è vero Vero è vero Me lo ricordo ora Sì È vero Ora ci sta a pensare Che avevo messo C'erano anche le oche Le anatre Non mi ricordo cosa c'erano Sì sì Ora ricordo Ora ricordo pure io Che avevo una mappa Con i maiali finti Fissi Immobili Ok sono praticamente Pieno Adesso Basta Perfetto Ok Ti aspetto Volentieri Dalle Vamo Che Arrivo Arrivo pure io A tutto gas A 100 km orari Allora Allora Erba fresca Pannaggia Un attimo Scarico Adesso viene il bello Ok Ok buono così Mi ho dato 11.000 Circa Mi raccomando Non le fa cadere Urca Devi fare come ho fatto io Nella tua serie Che le ho impilate tutte bene E vediamo se Lo zio Alex riesce Sì dai Perfetto Ok Pagliatore Allora vediamo ragazzi C'è qualcosa qua dentro Giusto per saperlo Eh la pa Eh qui c'è la paia Vedi ce n'è un botto Vabbè la lasciamo qua dentro Per ora Tanto non me ne serve Anzi Mo' sto camion Lo parcheggiamo Direttamente L'erba gliel'ho data La paia gliel'hai data Quindi mo' Gliela sto dando adesso Anzi Mo' mi è venuto in mente Un'altra idea Ecco Cosa fare con sto camion Eh lo metto A riempire Di concime Così Smette di dirmi Quel messaggio la Ah è vero È vero Sì sì Vai vai Nick Aspetta Aspetta Caspita è alto Ok Fammi il pieno qua Raga Così almeno Così almeno Smette di dire Che c'ho la montagna Di cacca Bella Com'è Ok Fatto A posto Ah io lo dai Ah così io lo dai Eh sì E sta balletta in più Eh quella è caduta Ce ne stanno massimo due Ma scusa Volendo io Lo puoi dare anche In modo diverso La paia Non lo sai Volendo lo puoi mettere Anche nel carromiscelatore No volendo io la puoi dare Anche intera la balla Non lo sai Dove sta scaricando Ma che steffa Guarda 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 c'ho la balla qua La vedi Ah gliela appoggi Ah gliela appoggi lì Sì guarda se la prendono Hai visto Ah eh vabbè ma io lo sai che vado a fare proprio la lavorazione Eh ma tu sei troppo realistico Eh lo sai che io Allora Vediamo un po' Ma mi sa che devo entrare dentro Era per far vedere a tutti Che si può fare anche Il mo Eh sì Il metodo Metodoniche Il metodo Sì Scanzafatiche No dai Aspetta va Comunque devo raccogliere il tuo disastro Eh Magari ci poteva pensarlo ognuno Ma Siccome l'ha buttato un po' più fuori E richiamo anche l'altro Eccola qua Allora vediamo un po' se hanno bisogno di altra paglia Diciamo che potrebbe andare ma Ne possiamo mettere ancora un po' Volendo Vabbè oh Famo prima con quel sistema Che tempo che carichiamo fammi di Con il mio sistema ci sprichiamo prima Allora questo lo metto qua Tadà Vai Ah io esco e tu parcheggi Ah mo ci penso io qua A sto punto perché l'hai comprato sto Ma che ne sono Vabbè l'ho comprato per farlo vedere no Ah Per dire io ce l'ho Sì sì Eventualmente E forse c'ho Ah beh il carro miscelatore Vabbè alla fine l'ho venduto perché non serviva più Però ce l'avevo pure Beh sì se utilizzi quel macchinario la Ne vogliono ancora? Vediamo Eh sì Ora ti faccio vedere come si fa Eh saranno anche troppo Eccolo lì Beh almeno tre Vediamo Vediamo Eh un'altra ci sta Eh che non volevo collaborare Ah non collabora A posto A posto C'è bastano Perfetto Sì sì basta Trovate il link in descrizione E niente ragazzi Noi vi salutiamo Ci becchiamo come sempre Presto in un prossimo video Stateci bene Ciao alla prossima Ciao belli Sì boa Adversa Sì Grazie per la visione!